Eccoci qua, noi siamo pronti, sono pronti i nostri inviati, vedo Elena Testi, vedo Luca Sappino, vi parleremo di una serie di temi che sono al centro dell'attenzione, primo tra tutti la questione delle case di riposo, torno a trovarci il professor Morrone per rispondere alle vostre domande, tante testimonianze e poi Umberto Broccoli e Luciano Fontana per cominciare, vi aspetto. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio ad Alessio Orsingale, che voi non avete potuto vedere, però oggi cominciamo col sorriso perché si è fiondato in studio, ha fatto una corsa, questo basta per un mese. Ho già il piatone. No, adesso smetti di fare attività fisica, questo è già il massimo che puoi dare. Allora, di cosa parliamo oggi? Abbiamo tante cose da raccontarvi, intanto torniamo sul tema delle case di riposo, c'è la Guardia di Finanza in Regione Lombardia in riferimento al Pio Albergo Trivulzio, ma insomma da nord a sud sono tante le case di riposo in cui qualcosa non ha funzionato e questo qualcosa è tutto in quei numeri drammatici, la strage dei nostri vecchi. Quindi torneremo sull'argomento con i nostri collegamenti, ma parleremo anche della condizione economica globale, di questa crisi potente, potentissima, che ormai è un fatto ed è un fatto anche che noi siamo maglia nera, così ci ha detto il Fondo Monetario Internazionale, dopo di noi solo la Grecia per quanto riguarda il calo del PIL. E allora come si riparte? Ci siamo detti, ci hanno parlato di mappature, ci hanno parlato di app, ma ce le abbiamo noi queste tecnologie e dal momento che ancora facciamo fatica con i tamponi, come possiamo immaginare bene il nostro futuro? E poi dove si prendono i soldi, visto che ad esempio sul MES non c'è esattamente accordo all'interno del governo? Insomma, tante domande, affronteremo i temi uno per uno. Intanto partiamo dalla Lombardia e partiamo da Milano. Elena Testi, Elena. Tiziana, sono in Regione Lombardia perché, come hai detto tu, è in corso da questa mattina un blitz della Guardia di Finanza, cioè del nucleo di polizia economico e finanziario della Guardia di Finanza di Milano, perché stanno effettuando dei sequestri all'interno della regione. Un'indagine che parte dal Pio Albergo Trivulzio, ve lo ricordo ieri, insomma, la Guardia di Finanza è stata 17 ore all'interno del polo geriatrico più grande d'Italia, per fare chiarezza sulle centinaia di morti che si sono verificati all'interno e cercare di capire se sono stati presi tutti i dispositivi di sicurezza possibili, se quelle morti sono effettivamente riferibili tutti all'epidemia di coronavirus e ci si sta muovendo su più fronti, perché ci si chiede se le 20 persone entrate all'interno della struttura dopo lo scoppio dell'epidemia era necessario farle entrare, forse sarebbe stato meglio chiudere i tamponi, quanti sono stati fatti e se ne sono stati fatti abbastanza, e poi le cartelle cliniche, quelle cartelle cliniche che ancora non sono chiare e che forse potrebbero dare delle risposte, all'interno invece della regione si sta facendo dei sequestri riguardanti alle dichiarazioni, cioè a quelle direttive che la regione Lombardia avrebbe dato all'RSA, cioè quali sono state queste direttive, erano abbastanza, ci sono delle possibili responsabilità e queste le domande che si sta ponendo la procura di Milano. Vi dico che più tardi vi racconteremo anche un'altra storia, di un'altra RSA, anche lì tante le morti e anche lì tante le denunce del personale sanitario. E poi vi dico quello che ha detto invece la regione Lombardia, perché comunque ha voluto fare una dichiarazione il presidente Attilo Fontana, dicendo noi adesso siamo impegnati a combattere contro il coronavirus, ma abbiamo un massimo rispetto per le indagini. Infine vi darei il bollettino, quello che vi do ogni giorno da questa regione, sono 1.012 i contagi in più che riguardano i tamponi, che tamponi comunque sono stati fatti in meno rispetto agli altri giorni, questo per la stessa ammissione dell'assessorato, ed è stato proprio Giulo Garlera, l'assessore al WEF, a dichiarare adesso però deve iniziare un'altra fase, quella della quotidianità, una quotidianità che insomma qui senta a riprendere, perché come sappiamo le ordinanze sono stringenti, e poi vi do l'ultimo dato, quello dei decessi, e sono purtroppo 241, sempre tanti, e il totale è di 11.142 dall'inizio della crisi. Grazie Elena, dalla Lombardia ci spostiamo nel Lazio, c'è Luca Sappino. Luca. Sì Tiziana, io sono a Rocca di Papa, uno dei comuni dei Castelli, alle porte di Roma, quello che vedi alle mie spalle è il primo posto di blocco di quella che sarà una vera e propria zona rossa, che non coinvolgerà come in alcuni precedenti, pensiamo al comune di Nerola, il comune di Rocca di Papa, ma che circoscrive questa struttura sanitaria, questa è una casa di riposo, ci sono tre padiglioni, che Valeria può forse mostrarti, è una residenza per anziani, è un hospice, è una lungodegenza, qui da ieri c'è un'esplosione dei positivi, pensate, ieri sui 146 positivi contati nella regione Lazio, 95 venivano dall'RSA e 64 da questa struttura, dove al momento si contano 86 positivi, 71 tra i degenti, 15 tra gli operatori sanitari, medici e infermieri. Solo il 10 aprile, 5 giorni fa, erano 12, quindi c'è stata un'impennata dei contagi negli ultimi giorni, ci si chiede come sia possibile, visto che è noto il problema delle residenze per anziani, dei contagi all'interno di queste strutture. ci sono stati anche già 4 decessi e l'area rossa, la zona rossa che ti ho mostrato, verrà allargata nelle prossime ore, sarà impossibile avvicinarsi a questa struttura, verranno contingentati gli ingressi, potranno ancora entrare gli operatori sanitari, i lavoratori, chi effettua servizi in questa struttura, ma gli verrà misurata la febbre e la pressione con i termoscanner. Io non ti sento, non so se hai il ritorno. No, 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 ti abbiamo ascoltato Luca e più avanti nel corso della trasmissione veniamo da te così cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo. Certo colpisce il fatto che negli ultimi giorni il contagio si sia propagato così e che nel numero dei contagi del Lazio e di Roma una fetta così importante abbia a che vedere con quella sola casa di riposo. Allora, fatemi vedere, stiamo già lavorando per voi nel senso che c'è Isabella Angios che risponde alle vostre telefonate, le telefonate che state facendo per parlare con il professor Morrone, quindi continuate pure a farlo, ma è un invito che non è necessario che io vi rivolga, perché appunto avete già iniziato e continuate anche quando finisce il programma, ma va bene così. Saluto Umberto Broccoli, scrittore, archeologo, conduttore televisivo, eccetera, eccetera, eccetera. Ben trovato e bentornato a Paganoa. Ben trovati, bentornati. Saluto in collegamento Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Ben trovato, direttore. Sì, buongiorno a tutti. Direttore, io oggi voglio partire con una cosa che mi ha scaldato il cuore. Corriere della Sera, prima pagina del Corriere. prendo il giornale stamattina e trovo la foto di due signori, Giorgio e Rosa. Giorgio e Rosa, 50 anni di matrimonio. Lui era arrivato in ospedale, era stato ricoverato, ospedale di Cremona, prima di lei, e non sapeva che anche lei era stata ricoverata, e poi lo hanno scoperto entrambi, e questo è il momento in cui si ritrovano. Voi l'avete messa in prima pagina, questa storia, perché immagino che abbia fatto un po' da balsamo anche a voi, direttore. Beh, sì, certamente. È una foto bellissima, un gesto di affetto e di amore che ha radici, come si capisce, molto soliti, e soprattutto qualcosa che ci dà speranza. Insomma, in mezzo a inchieste, morti, discussioni, sappiamo che c'è però qualcosa che ci può tirare fuori. E sicuramente la solidarietà, l'affetto, la comunanza, voler stare insieme e combattere la stessa battaglia è qualcosa che ci dà speranza. No, è esattamente così, è veramente, sono voluta partire da qui perché penso che quell'abbraccio racconti molto, moltissimo, no? Guarda, guardi, c'è una cosa, mi è venuto in mente, vedevo, a parte l'avevo visto stamattina, complimenti per questa cosa, perché è un bel messaggio. Mi viene in mente le parole di uno scrittore latino che si chiama Ausonio, non lo conosce quasi nessuno perché è uno scrittore della Tare della Latinità, che racconta la storia di due sposi, due mariti e moglie molto anziani. Diceva, ma insomma, chiamiamoci come se fosse la prima volta, tu sei il mio puer, fanciullo, tu sarai la mia puella, fanciulla, e finisce dicendo godiamo i nostri anni e non contiamoli. Io credo che sia una frase bellissima. E vabbè, e adesso quasi faccio fatica a dire la pagina social. E infatti passi la palla a me. E' andata così. Attacco col muro a due, va bene. Le questioni economiche in primo piano anche nella narrazione social. Oggi su Twitter c'è grande preoccupazione per il contagio economico e per la risposta del sistema paese e della politica al contagio economico. questo è un post dell'Ansa di poco fa. Banca Italia alle imprese servono 50 miliardi. Si stima un calo della produzione industriale del 15% nel solo mese di marzo. E ricordiamo che già ieri i consumi a dir poco anemici nello stesso mese meno 31%. La reazione della politica l'Italia non ha colpi l'Unione Europea deve capirlo. La linea Bay è un passo in avanti ma la vera domanda è bastano i soldi messi sul piatto? Lo scrive su Twitter il ministro degli esteri Di Maio che invita a raggiungere un accordo e a non accettare qualsiasi compromesso. E poi c'è tutto il tema corposo delle multe a chi contravviene alle disposizioni del decreto resto in casa. C'è spazio soprattutto negli ultimi giorni anche per un po' di polemica per molte più o meno motivate che sarebbero state combinate però questo è il bollettino del Viminale 265.131 persone controllate 97.598 attività e tra queste si segnalano anche 35 chiusure. Da ultimo proprio per dare un po' di balsamo questo video proposto da Repubblica.it che è diventato virale negli Stati Uniti ma è un video italiano io se riesco lo mando in play se non riesco perché i nostri potenti mezzi si sono bloccati ve lo racconto in Basilicata a Bella un'idea di Vito Travertino un brindisi da un balcone all'altro lanciandosi bicchieri esatto in modo soft che ha fatto il giro del mondo e che è appunto diventato virale negli Stati Uniti. Allora io devo andare in pubblicità e ci andiamo col cartello che ricorda la nostra raccolta fondi insieme al Corriere della Sera la gazzetta dello sport sta andando molto bene nella raccolta fondi dopo la pubblicità una serie di temi li ha già accennati Alessio attraverso la pagina social c'è la questione economica ci sono le case di riposo ci sono le inchieste come diceva Fontana quindi andiamo in pubblicità prendiamo fiato e poi torniamo fra poco eccoci qua di nuovo in studio siamo in compagnia di Umberto Broccoli e di Luciano Fontana Fontana riparto da lei e riparto con un capitolo che è un capitolo veramente penoso del racconto di questo vissuto che tutti noi condividiamo cioè di questo viaggio nel covid ed è il capitolo relativo alle case di riposo per gli anziani stiamo parlando di una strage credo si possa dire così numeri francamente che fanno impressione allora la domanda è adesso poi ci sono le inchieste la guardia di finanza c'è la Lombardia ma non c'è solo la Lombardia perché il tema delle case di riposo va da nord a sud la domanda che io le faccio è non abbiamo saputo e non sappiamo proteggere i nostri anziani e questo quanto racconta di noi sì certamente questo è il vero caso di questa epidemia perché sapevamo dall'inizio che il virus era particolarmente violento nei confronti degli anziani che c'erano tanti anziani insieme nelle case di riposo quindi la logica avrebbe voluto che le case di riposo dovessero essere il primo il primo sistema da proteggere da chiudere mettere in sicurezza isolare rispetto all'esterno fare tutti i tamponi necessari dare tutti gli strumenti di protezione al personale sanitario e agli ospiti delle case di riposo questo non è stato fatto non è stato fatto anche perché diciamo abbiamo dovuto combattere improvvisamente qualcosa che non conoscevamo e che ci ha accolto e ci ha accolto di sorpresa però rispetto ai primi momenti poi quello che è accaduto dopo dimostra dimostra che qualcosa non ha funzionato ancora oggi nelle case di riposo della Lombardia i tamponi sono stati 1771 su 16.000 ospiti quindi praticamente il 10% il 90% degli anziani ancora non sono stati verificati non sappiamo bene se sono stati contagiati se sono positivi e se possono contagiare le altre persone le direttive se ci sono state forse non erano chiare oppure non sono state applicate bene quindi abbiamo fatto qualcosa come se il fatto che il virus colpisse gli anziani fosse qualcosa che in fondo hanno una certa età hanno delle malattie concomitanti fosse qualcosa di ingiustificabile e questo dice anche molto rispetto al nostro atteggiamento credo che sia stata la cosa più tremenda di tutto di questo nostro mese e mezzo lo credo anche io sinceramente ed è per questo quindi lo chiedo anche a Broccoli che la domanda che mi faccio è d'accordo racconta probabilmente di negligenze comunque di qualcosa che non ha funzionato e lo ribadisco non ha funzionato una nord a sud poi torniamo alla regione Lombardia casomai però diciamo che c'è in questo una vicinanza tra il nord e il sud del paese perché le case di riposo sono un tema anche in altre regioni e però racconta delle negligenze racconta dell'incapacità di gestire l'emergenza ma forse racconta anche della nostra idea rispetto alla vecchiaia oh mamma mia è giustissimo quello che stai dicendo perché un paese che non riesce a tutelare hai detto bene vecchiaia perché è un eufemismo anziani terza età no i vecchi ma perché anche la scelta delle parole non significa perché noi le abbiamo proprio eliminate alcune parole se qualche anno fa andava di moda il termine rottamare rottamare cosa significa vuol dire mettere rottamare come le automobili no a un certo punto si matta in magazzino e vengono compresse e distrutte le macchine che non servono più stiamo parlando di esseri umani questa non è retorica la mia detesto la retorica tant'è che uso la parola vecchi c'è una canzone di Claudio Baglioni stupenda sui vecchi dell'81 che racconta la bellezza di una memoria chiusi in cucina se viene qualcuno eh sì appunto i vecchi sulle panchine dei giardini ecco se noi non abbiamo tutela della nostra memoria noi non avremo futuro perché chi non conserva il passato non conserva il futuro questo lo diceva Gheorghe Santayana che è un filosofo degli anni 50 madrileno poi americano morto a Roma che diceva che chi non conosce la propria storia la conserva è condannato a riviverla e in questo senso quello che è accaduto ci racconta di noi Alessio la parola tutela è una parola che si può sposare anche con la tutela economica e diciamo che di segnali della tutela economica ne vediamo pochi o almeno gli osservatori internazionali ne vedono molto pochi il Fondo Monetario Internazionale ieri ha detto meno 9% ha dato nuovi dati sul debito pubblico italiano sarà al 155,5% del nostro prodotto interno lordo un balzo di quasi 20 punti percentuali rispetto alla situazione attuale saremo secondi solo al Giaffone e il deficit nel 2020 all'8,3% scenderà poi nel 2021 al 3,5% ma sono numeri molto preoccupanti allora Fontana il tema economico è il tema con il quale dobbiamo confrontarci anche perché questi sono i giorni nei quali si parla di questa benedetta riapertura di questo ricominciare di questa fase 2 no? allora la fase 2 richiede almeno due cose la prima quella di capire dove si prendono i soldi perché sappiamo che questo blocco ha significato una grave perdita economica la seconda deciderlo dove si prendono i soldi e quali sono le mosse da fare deciderlo possibilmente insieme l'unità nazionale si ricorda quella frase brutta che non si usa più che diciamo è stata vera per tre minuti più o meno ecco noi siamo invece nella condizione in cui se si parla di mess arriva la parolaccia mess e quindi all'interno della maggioranza di governo si rompono gli equilibri arriva il veleno come se oggi scrive mi piaceva molto Massimo Franco che dice come se ci fosse un rigurgito dell'antipolitica però sembra totalmente fuori tempo prego direttore ma si io speravo e lo speravano credo tutti gli italiani che questa crisi così grave portasse a qualche cambiamento anche nel comportamento della nostra classe politica avevamo sperato in un minimo di sforzo comune in obiettivi condivisi ed è un modo di rapportarsi della politica profondamente profondamente diverso mi sembra che passata la prima fase invece ci stiamo avviando di nuovo in una situazione come tutto quello che sta accadendo non ci fosse come non ci fossero i morti come non ci fossero le fabbriche chiuse le città deserte come non ci fosse una previsione del 9% di perdita del PIL allora quello che si può dire lo sforzo che dobbiamo fare sarà uno sforzo straordinario richiede impegno energie tantissime disponibilità economiche il coinvolgimento di tutta l'Europa e richiede un minimo di traccia comune perché come si potrà andare a chiedere ai cittadini di fare sacrifici di riaffrontare questa fase che è come un dopoguerra se passiamo tutte le giornate ad ascoltare che allora è immessa le condizionalità li prendiamo non li prendiamo avete tradito l'Italia insomma ci vuole un po' di buonsenso recupero del senso del paese e soprattutto efficacia e rapidità ecco tutto questo mi sembra che non sia accadendo ed è altamente desolante diciamolo così senta Broccoli è come se diciamo quel concetto di unità nazionale che pure avevamo festeggiato ribadisco per tre minuti fosse stato un equivoco cioè in Italia il concetto di unità nazionale beh ma ricordo un altro momento della nostra unità nazionale che però fece frutti 1978 anno difficilissimo per la storia del nostro paese forse l'anno più cupo dal punto di vista politico ricordiamo tre papi due presidenti della Repubblica e l'affermoro soprattutto ma come no quindi ci fu questo momento difficilissimo per cui tutti quanti ma successe ci fu un'unità nazionale contro il terrorismo ora paradossalmente non voglio essere equivocato quella stagione che è una stagione politica legata al terrorismo è stata superata è stata superata tutti insieme realmente ma ci fu ci fu un governo con l'appoggio di tutte le forze politiche questa che è come dice Fontana ci prepariamo dopo guerra bisogna che troviamo le energie per affrontarlo insieme tanto più che ci saranno macerie emotive enormi rispetto alle quali secondo me ancora non abbiamo neanche capito quali strumenti ad operare beh viviamo in una sorta di bolla sospesi un po' tutti quanti no? in attesa di un qualche cosa che deve accadere ancora ma che accadrà perché innanzitutto non è che il coronavirus passerà così non è che poi a un certo punto uno fa uno switch come si dice in termini moderni e tutto finisce quindi sarà gradato questa cosa ma ci sarà un problema economico Fontana l'ha detto con chiarezza ma insomma sotto gli occhi di tutti che si presenterà inevitabilmente e non sarà un traguardo e quel problema economico sarà anche ho perso il mio lavoro ho perso la mia identità ho perso le persone che amavo dunque sarà anche un problema emotivo molto molto grande quindi bisognerà capire come attrezzarsi Alessio? sul meccanismo europeo di stabilità che Salvini e Meloni attacchino il governo non è una notizia continua a essere purtroppo una notizia che all'interno del governo se la cantino e se la suonino il 5 Stelle all'attacco del PD il sottosegretario agli esteri Maglio Di Stefano rivolgendosi a Graziano Del Rio ha detto vai alla cieca contro il governo e tutto il movimento 5 Stelle l'abbiamo visto anche poco fa nel post di Luigi Di Maio fa quadrato sul no al nuovo mess Direttore mi veniva in mente mentre Alessio parlava stavo provando a farmi uno schimino per capire come sono le forze in campo allora diciamo che c'è una conflittualità tra noi e l'Europa perlomeno una parte dell'Europa poi all'interno dell'Italia c'è una conflittualità tra maggioranza e opposizione poi c'è una conflittualità tra all'interno della maggioranza il PD e il Movimento 5 Stelle poi per grazie a Dio abbiamo anche problemi tra il governo centrale e le regioni a me è venuto mal di testa mentre lo facevo lo schemino diciamo che questo non ci fa sperare bene per niente non ci fa sperare bene per niente ed è la dimostrazione che dopo un po' di tempo qualche settimana in cui la gravità della situazione aveva messo un po' a registro tutte queste cose adesso si ritorna come se niente fosse accaduto tra l'altro io ho sempre pensato che il Movimento 5 Stelle e Lega avessero tantissime cose in comune tantissime delle radici comune e anche un'attitudine rispetto rispetto alla politica e quindi come dire come se quell'agosto di insulti tra Lega e 5 Stelle fosse quasi cancellato e si ritornasse ai vecchi amori come niente fosse successo in nome di alcune parole che alcune proposte che sanno molto di propaganda perché non si va mai al merito delle cose allora questo mess se il finanziamento dei 37 miliardi è senza condizione per la sanità non è che perché si chiama mess è stato fatto 8 anni per una cosa diversa cioè chiamiamolo pure Topolino ma se sono soldi che arrivano senza condizionalità prendiamoceli questo mi pare il ragionamento chiamiamolo in questo alla fine Berlusconi ha dimostrato di essere anche un po' più saggio di tutti chiamiamolo cheap shop chiamiamolo come volete togliamo le condizionalità ma mettiamo immediatamente prendiamo immediatamente risorse disponibili altrimenti qui c'è gente che è rimasta senza lavoro fabbriche ferme vite sospese ma quando ripartiamo in queste condizioni c'è un'ultima cosa direttore che mi piaceva commentare siccome oggi ho letto con attenzione l'articolo della Gabanelle di Simona Ravizza a proposito delle domande alle quali a questo punto è necessario che la Lombardia risponda il tema ma la questione è il numero delle vittime ora io ogni volta che parlo della Lombardia penso anche all'onda che è arrivata sulla Lombardia la violenza con cui quell'onda si è abbattuta sulla Lombardia prima ancora che su tutte le altre regioni e però malgrado questo poi ci sono una serie di cose che non tornano e la Gabanelle e la Ravizza pongono mi pare sei domande in particolare affrontano sei questioni io le chiedo a questo punto è indispensabile proprio perché dobbiamo ragionare di quello che succederà capire cos'è successo e quindi è indispensabile che la Lombardia interroghi se stessa e dia delle risposte? ma io credo sia indispensabile partendo da un punto sicuramente fermo che la Lombardia è stato l'epicentro di questo della diffusione del virus e quindi la violenza che ha dovuto subire la Lombardia non ha paragoni rispetto al resto dell'Italia altrimenti sarebbe ingeneroso non riconoscerlo dopodiché ci sono sicuramente alcune cose che meritano risposte e soprattutto ci sono alcune cose che dobbiamo fare per ripartire perché se la sanità territoriale una sanità che interviene prima che previene che mette in sicurezza le persone prima di portarle nei nostri eccellenti ospedali non funziona significa che anche tutto quello che dovremmo fare in termini di test di isolamento di ripartenza non funzionerà quindi questi interrogativi servono a preparare la fase 2 e servono forse anche a cambiare le cose che non hanno funzionato adesso la app i testi le misure per la ripartenza ma se non ci interroghiamo su quello che non ha funzionato come possiamo ripartire bene questa è la grande questione che la Lombardia con il suo enorme carico di morti decisamente superiore a quello delle altre regioni e anche di altri paesi europei e del mondo deve forse e quindi io credo che sia giusto che a queste domande ci sia data una risposta ma non per mettersi sul banco a dare come dei PM ma per trovare la strada giusta per affrontare i prossimi passi per la fase 2 di cui tanto parliamo alla quale tutti quanti tendiamo poi bisogna vedere appunto se siamo pronti se abbiamo tutti gli strumenti per metterla in piedi questa fase 2 mi fate rivedere la foto di Rosa e Giorgio quella da cui siamo partiti Broccoli perché io oggi sarà che ho il cuore fragile però se guardo quella foto veramente mi commuovo ed è diciamo a partire da questa foto che chiedo a Broccoli questo è il nostro rito prima di salutarci andrà tutto bene perché andrà tutto bene perché perché deve andar bene solo questo posso dire anche se appunto c'è per forza anche se tutti gli indicatori che Fontana ha riassunto perfettamente che tutti noi vediamo sotto gli occhi ci lasciano leggermente tentennanti perplessi perplessi Fontana andrà tutto bene perché lo sa che non si può sfuggire all'ultima domanda no? ma perché credo che persone italiane come quelli di quella foto ci danno la forza per ripartire io credo che lì è la grande forza individuale del paese insomma andrà tutto bene per questo e viva direttore grazie per essere stato con noi buon lavoro buon lavoro ad Umberto Broccoli facciamo entrare il professore Aldo Morrone direttore scientifico dell'istituto San Galicano di Roma che è con noi ancora di nuovo e per questo lo ringrazio per rispondere alle vostre domande dovrebbe essere collegato con noi Roberto Arditi direttore di formiche.net eccoci ben trovato allora ricordiamo il numero di telefono per parlare con il professor Morrone mi permetto di dire e poi anche come ci devono scrivere in altri modi attraverso l'hashtag però volevo segnalarvi lo fate già e vi voglio però ufficialmente autorizzare potete scriverci anche a prescindere dalle domande che pure avete voglio o bisogno di fare i nostri esperti potete scriverci anche delle vostre esperienze o di altre domande altre questioni insomma voi ponetecele noi proviamo a darvi le risposte prego Alessio il nostro numero di telefono è lo 0601 90 80 96 avete già iniziato a chiamare tant'è che il nostro assistente di studio lo vedo dietro le telecamere che sta per entrare con tipo 25 foglietti che la nostra Isabella Angius ha prontato e gli altri arriveranno e su twitter invece avete già cominciato a scrivere l'hashtag è all'esperto chiedo l'indirizzo mail invece è tagada chiocciolala7.it e adesso il numero dei contagi e qui il sorriso non c'è e non ci può essere perché il numero è molto alto sia a livello globale sia per quanto riguarda la situazione italiana poco meno di 2 milioni di persone nel mondo si sono infettate col covid-19 i decessi 127.601 in Italia invece partiamo dai guariti che sono anche in percentuale dal tardo pomeriggio di ieri al tardo pomeriggio del giorno prima la percentuale che è cresciuta di più e questo ci fa piacere 37.130 persone i decessi 21.067 le persone attualmente positive in Italia sono poco meno di 104.300 segnaliamo però che ieri il dato è stato molto buono sì ma erano stati fatti pochi tamponi ecco e questa è la prima domanda per il professor Morrone perché noi quando vediamo quel dato dei contagi in calo subito pensiamo vabbè meno male almeno vuol dire che le cose vanno bene poi adesso abbiamo imparato che dobbiamo andare a guardare quanti tamponi sono stati fatti cioè non è un caso se fai meno tamponi avrai meno positivi al contagio però di quel dato c'è un elemento molto buono il numero minore dei decessi è determinato dalla capacità di curare meglio le persone ricoverate perché gli ospedali sono meno recuperati e poi il numero ridotto di persone in terapia intensiva questo vuol dire che tutti questi discorsi che noi facciamo sull'utilizzazione di nuove o vecchie molecole sta comunque ottenendo un grande successo perché se date in fase iniziale abbiamo notato che la gente non progredisce verso la terapia verso la terapia sistemica quindi voglio dire verso la subintensiva o intensiva e quindi c'è un netto miglioramento dei deceduti adesso si sta discutendo da molte settimane su varie terapie sì che continua a essere però un numero bello e importante troppo elevato infatti parlare di fase 2 dinanzi a quel numero di decessi credo che non sia possibile proprio parlare professore siccome so che lei ci vuole bene a lei mi posso permettere di fare la seguente domanda io e Alessio Ursinger condividiamo un'ossessione cioè noi alle 6 stiamo davanti alla televisione a vedere il bollettino della protezione civile abbiamo anche altri difetti però abbiamo questa ossessione beh ogni volta poi ci mandiamo i messaggini perché la cosa che ci colpisce è che alle varie domande dei colleghi la risposta qual è Alessio? è prematuro rispondere a questa domanda aspetta te ne faccio un'altra senta ma possiamo valutare quale sarà la decisione da prendere se andranno aperte le scuole? l'ultima parola aspetta il decisore politico ecco già allora voglio dire noi guardiamo le conferenze stampa e poi a fronte delle domande a 45 giorni dal blocco totale sostanzialmente non ci sono risposte ora io lo so che lei mi ha spiegato che la scienza è come l'amore non c'è né sempre né mai ma un forse le chiedo un qualche volta mi aiuti cioè siamo così in alto mare no devo dire non siamo in alto mare io non sono d'accordo su questo alto mare anche nella polemia c'è stato che si vuole dalla scienza indicazioni chiare e precise non le possiamo dare in questo momento però ne abbiamo tante indicazioni in questo momento non possiamo parlare di riapertura delle scuole questo è il mio parere ovviamente perché non c'è proprio la possibilità noi il distanziamento sociale lo dobbiamo mantenere certo una domanda importante non lo possiamo mantenere per mesi e mesi quindi dovremmo valutare l'ipotesi di una apertura molto cauta con almeno tre elementi importanti uno vedere questa immunità se questa immunità si è diffusa e adesso arriviamo a tutto il tema è un problema abbastanza complesso in assenza di un vaccino no ma anche non irrilevante mi sembra determinante al fine di stabilire se si torna o non si torna l'ora con quali modalità secondo questa stagionalità del caldo può essere utile o può non essere utile e tenuto conto che altri coronavirus si sono diffusi durante il caldo come la merce in Medio Oriente mi dica il titolo del terzo punto se c'è un terzo punto il terzo punto è che probabilmente dovremo sottoporre tantissime persone a un'indagine sierologica e un maggior numero di tamponi allora però chiedo a Roberto Arditti ma noi che cosa abbiamo capito perché veramente che Alessio ci mandiamo i messaggini quando c'è la conferenza stampa però qual è il punto il punto sono le incertezze della scienza o invece la responsabilità politica che ad un certo punto deve farsi carico anche delle incertezze la domanda è molto impegnativa Tiziana la scienza sta facendo il suo secondo me con grande serietà affrontando un'emergenza che tale è stata con molti aspetti nuovi e i medici fanno la loro parte la mia opinione è che noi abbiamo noi come sistema Italia abbiamo montato questo appuntamento delle 18 che tra l'altro continua a darci dei numeri sì no ma io so l'opinione di Arditti diciamo su quella conferenza stampa perché Arditti l'ha detto a chiare lettere lo ricordo a chi non lo ricordasse ha detto non servono a niente quei numeri perché sono tutti inevitabilmente falsi perché non tengono conto del sommerso e quindi ciascuno di quei numeri è discutibile è corretto ho tradotto bene è assolutamente la mia opinione ma lo dico pur convinto della buona fede di tutti sia chiaro a cominciare dai partecipanti a quell'appuntamento la mia opinione è molto semplice io metterei quei numeri in un sintetico comunicato stampa che dà conto delle evidenze venutesi a creare nella giornata abbiamo fatto x tamponi ci sono y persone positive abbiamo e lo ricordava molto bene il professor Morrone vorrei usare un numero in positivo noi nei giorni di massima crisi almeno di quello che abbiamo conosciuto sinora siamo arrivati a circa 4.000 persone ricoverate in in terapia intensiva era grosso modo il 25 di marzo diciamo l'ultima settimana di marzo nei dati di ieri siamo scesi di alcune centinaia di persone in terapia intensiva questo è il segnale come il professore diceva molto meglio di me che stiamo imparando a combattere questa malattia con una certa efficacia dopodiché quando poi si passa una volta dati i numeri alle domande riproducendo la scena che con Alessio avete fatto pochi momenti fa si ottengono sistematicamente le risposte che avete ricordato ed è una contraddizione in termini quindi fare una conferenza stampa per non rispondere alle domande concludo dicendo secondo me basterebbe dare i numeri e poi ogni tanto neanche tutti i giorni in presenza di qualche novità da comunicare trovare anche un modo per incontrare la stampa e darli tutto qua chiaro chiarissimo mi fate vedere se ho sia Elena che Sappino se ci sono i collegamenti nessuno dei due in questo momento mi fate vedere mi aprite Sappino perché Elena credo che al momento non ci sia eccolo Luca sì Tiziana allora io sono sempre Rocca di Papa quello che vede alle mie spalle è il posto di blocco dei carabinieri e dell'esercito all'ingresso della casa di cura privata San Raffaele mi sono spostato di qualche metro perché se Valeria Cardia è a seconda ti faccio vedere quello che è il più grande padiglione di questa clinica lì è appena entrata una ambulanza della Croce Rossa di quelle che abbiamo visto tante volte purtroppo in questi mesi di quelle ad alto biocontenimento dentro questa casa di cura privata ci sono l'abbiamo detto nel primo collegamento 86 casi positivi sono 71 dei degenti diciamo sono anziani ospitati in questa struttura che ha la lungodeggenza l'hospice ha la residenza per anziani e 15 gli operatori gli operatori ovviamente non sono dentro ma sono in isolamento domiciliare nella loro casa mentre i pazienti che sono positivi e che erano ospitati sono dentro ancora i degenti esattamente sono ancora dentro questa struttura diciamo io non azzardo previsioni ma cercherò di capire se quell'ambulanza serve al trasferimento di eventuali pazienti quelli magari con sintomi più gravi ti devo dire che siamo però in attesa della sindaca di Rocca di Papa che è in questo momento dentro la struttura con i dirigenti della ASL per una riunione operativa di gestione Luca ricordami solo una cosa poi quando arriva la sindaca ne parliamo anche con lei però ricordami la questione di diciamo della tempistica adesso tu mi hai detto che ci sono 86 persone positive nella struttura 5 giorni fa quante erano le persone positive perché questo è il dato che fa impressione e voglio vedere se è d'accordo con me il professor Morrone prego allora al 10 al 10 aprile erano 12 i casi positivi certificati tant'è che io ovviamente mi sono interfacciato con la struttura sanitaria e la direzione sanitaria di questa clinica e mi hanno detto noi siamo evidentemente di fronte all'impossibilità di gestire degli asintomatici cioè un contagio sostiene la struttura che viaggia per asintomatici perché dicono che i pazienti appena diciamo riconosciuti i casi covid sono stati isolati in quello che è diventato un reparto covid interno alla struttura una struttura che però ovviamente non è attrezzata non era attrezzata per un'emergenza del genere loro dicono che ai lavoratori sono stati dati tutti i dispositivi sanitari però il primo caso questo è per raccontarvi meglio ancora l'impennata il primo caso ritrovato in questa struttura è del 5 aprile il comune c'è in momento diciamo in queste ore c'è un dibattito abbastanza acceso tra amministrazione comunale e direggenza della casa di cura quello stesso giorno la casa di cura chiede alla ASL 119 tamponi cioè tamponi a sufficienza per tutti i pazienti i primi risultati di quei tamponi che non sono stati fatti tutti subito tanto per cominciare ma arrivano 10 giorni dopo cioè appunto 5 giorni dopo 7 giorni dopo non si fa nulla diciamo loro mi hanno detto che sono state messe in campo tutte le prevenzioni ma ovviamente combatti diciamo a occhi chiusi se non altro perché non sai effettivamente quali possono essere i moltiplicatori interni allora aspettiamo che arrivi la sindaca nel frattempo ci spostiamo dal Lazio il tema lo avete capito sono queste benedette case di riposo che francamente hanno prodotto un numero di decessi del quale credo non possiamo che essere abiliti dispiaciuti è un numero terribile è una strage di anziani andiamo da Elena Testi anche lei casa di riposo dove sei Elena? io sono davanti all'RS a Readelli vi faccio subito vedere per farvi rendere conto perché qui anche qui la situazione è drammatica e hanno messo dei cartelli con scritto tamponi subito per tutti sanità Lombardo uguale RSA dimenticate questa è una delle RSA più grandi della Lombardia anche come il Tribuzzo in questo caso è di nomina politica quindi non è un caso che venga tirata in ballo la regione Lombardia vi dico che qui ci sono stati 137 decessi purtroppo che è stato mandato un esposto alla procura di Milano per fare luce perché in questa RSA ci sono circa mille dipendenti di questi mille dipendenti 400 attualmente sono in malattia molti sembrerebbero essere positivi al coronavirus ma non possiamo dire che 400 dipendenti sono positivi al coronavirus perché come sappiamo in questa regione i tamponi purtroppo non vengono fatti soprattutto nell'RSA questo è anche uno dei grandi problemi attualmente la situazione è abbastanza critica perché comunque si cerca di capire anche in questo caso che cosa non è andato bene vi dico che insomma la procura sta chiedendo e queste sono indiscrezioni un conteggio dei decessi e che oggi c'è stato un ispettore giudiziario che ha voluto vedere le salme per capire e per accertare quali siano le cause della morte allora voglio passare un attimo attraverso Arditti perché diciamo nel mettere insieme le due vicende c'è l'elemento che non smette di stupirci di lasciarci sgomenti che è quello di questa strage di anziani cioè un numero incredibile di anziani morti Elena ci racconta in più che c'è la questione degli operatori sanitari 400 persone in malattia su mille è un numero enorme altissimo adesso saranno tutti covid non lo sono qualcuno magari non sta bene o comunque ha la preoccupazione di andare al lavoro vai a sapere e questo è un dato ancora invece la questione il tema che ci proponeva Luca Sappino ci apre ad altre valutazioni che sono quelle che sembra che non abbiamo ancora imparato non abbiamo ancora capito come si fa perché lì nella casa di riposo da cui ci parla Luca negli ultimi giorni il contagio si è propagato a grande velocità passando dieci giorni fa c'erano 12 persone contagiate siamo arrivati a 85-86 persone contagiate prego Arditti noi qui secondo me dobbiamo fare una grande operazione di onestà e prendere una realtà come quella della Lombardia e anche della città di Milano che da molti punti di vista sono le realtà più forti del nostro paese e prendere atto che queste realtà complesse soprattutto nel mese di marzo con poi gli effetti che vediamo adesso sono state sottoposte a un'ondata d'urto del virus che il sistema non ha gestito in modo efficace va detto quando poi ci sarà il tempo per l'analisi anche delle responsabilità e lo dico chiedendo anche il conforto del professore Moroni studio con te che se penso a due grandi città del mondo New York e Madrid città importanti ricche forti non stiamo parlando delle capitali dei paesi poveri del terzo mondo stiamo parlando di città che hanno una storia industriale economica culturale non diversa da quella di Milano ecco che anche a Madrid e New York abbiamo visto vacillare il sistema e tuttora bastano i dati americani che sono in termini temporali sfasati all'indietro rispetto a quelli italiani detto questo però detto questo però è di tutta evidenza che quello che abbiamo letto ascoltato da una prima almeno versione ci dice che non è andato tutto come doveva andare questo è fuori discussione anche perché tra l'altro quando gli ospiti di strutture sono le persone anziane è inevitabile che tutta la struttura intorno sa che maneggia vite delicate sia per l'eterno degli ospiti che anche per le loro condizioni di salute certo nessuno poteva prevedere una violenza del virus di questo genere ma vorrei ricordare all'intero sistema che il governo italiano dichiara l'emergenza il 31 di gennaio è un documento ufficiale della Repubblica Italiana questo non ce lo dimentichiamo mai arrivo a chiedere l'aiuto del professor Morrone non solo ricorda bene Roberto Arditi il 31 di gennaio ma noi stiamo parlando del 10 aprile e qui voglio veramente l'aiuto di Morrone perché il 10 di aprile entrano delle voci che non so esattamente di chi siano ma non importa ci fanno compagnia 10 di aprile nella struttura da cui ci parla Sappino c'erano 12 casi di positività passano un po' di giorni arriviamo ad oggi oggi è non voglio dire sciocchezze il 15 aprile passano 5 giorni e il numero dei positivi è 86 allora la domanda che mi faccio io è A. non abbiamo imparato nulla B. in conseguenza di questa domanda se qualcosa abbiamo imparato vuol dire che allora non abbiamo strumenti nei confronti del contagio da coronavirus c'è un errore di fondo che noi abbiamo fatto che è quello di aver lesinato il numero dei tamponi da eseguire perché probabilmente all'inizio c'erano pochi laboratori che potessero poi lavorare ovviamente i tamponi perché c'è una necessità di una biologia molecolare abbastanza complessa quindi primo errore secondo sugli anziani è un elemento drammatico perché le città che indicava lui prima sono tre città che io conosco bene Milano Madrid e New York dove c'è una forte sanità rivolta all'individuo quindi è impostata sull'individuo manca un concetto di sanità pubblica quello che si discute anche sulla Lombardia e in altre parti del mondo manca quel territorio che avrebbe dovuto come nell'RSA essere responsabile di questi centri che ha fatto sì che il modello Veneto fosse vincente rispetto al modello Lombardo di questo New York in questo si caratterizza è splendida io ho lavorato a New York fantastica però non c'è questa visione della salute pubblica allora intanto prepariamo le telefonate per il professor Morrone Alessio noi abbiamo citato prima lo ha fatto Elena Tessi il Pio Albergo Trivulzio 17 ore la presenza della Guardia di Finanza esatto lì ha acquisito documenti cartelle cliniche per circa 150 pazienti che si sono ammalati di Covid diversi faldoni di documenti e materiale informatico da regione Lombardia continua a arrivare la dichiarazione di massima collaborazione con le autorità inquirenti per quanto riguarda questa indagine apriamo le telefonate dovrebbe esserci Marcella al telefono Marcella ben trovata ben trovati a voi e grazie della possibilità che ci date è veramente importante guardate veramente grazie prego faccio pure la sua domanda poi permettimi una cosa Tiziano da farsi complimenti perché come diciamo a Roma non porti in groppa nessuno ed è pochissime persone che conducono trasmissioni che lo fanno veramente tanti complimenti grazie grazie davvero a te volevo chiedere al professore ci hanno detto che questo virus ha un'incubazione di 15 giorni come mai che sono passati tutti i 40 giorni e ancora c'è gente come ieri che si ammala sono 600 mi sembra sono persone che hanno continuato ad uscire cioè è un problema di una curiosità oppure il virus c'è più incubazione grazie Marcella adesso sentiamo cosa dice il professor Morrone in fondo questa è una domanda che ci fanno in tanti tantissimi cioè stiamo tutti in casa stiamo facendo questo grande sacrificio tutti sono 45 giorni e nel frattempo ogni giorno 1000 1500 contagi 1000 2000 contagi 3000 contagi come mai? perché probabilmente 15 giorni fa o 3 settimane fa non eravamo tutti chiusi qualcuno è uscito sui tempi di incubazione sono più brevi vanno da 3 a 6 giorni fino ai famosi 15 giorni oggi ci si orienta anche addirittura verso una terza settimana bisogna tenere presente che si è scoperto che il livello di contagiosità del virus spesso è determinato anche 2-3 giorni prima dell'inizio dei sintomi nei soggetti che avessero sintomi o forse i cosiddetti pausi sintomatici per cui è sicuramente questo gruppo di persone che può aver determinato la diffusione del virus e però stiamo dicendo che quelli che oggi risultano attraverso i tamponi contagiati qualcuno li ha contagiati e li ha contagiati 2-3 settimane fa 15 giorni fa quando già teoricamente non si doveva uscire di casa ma qualcuno che era noi abbiamo detto sempre che i soggetti che erano in casa non tutti probabilmente erano negativi al virus probabilmente qualcuno di questi era stato contagiato prima per cui io sono convinto se noi facessi un maggior numero di tamponi troveremo un maggior numero di soggetti contagiati e quindi questo determina anche la discussione sulla fase 2 è ancora da venire perché il numero dei contagiati è ancora troppo alto a mio parere per poter come dire essere tranquilli per poter immaginare di aprire e poi vediamo come si può riaprire a partire da cosa diciamo da quale tipo di mappatura queste benedette però ha ragione la signora credo che la sua domanda fosse molto intelligente fa un certo effetto dovrebbe esserci Laura che chiama dalla provincia di Torino Laura sì pronto ben trovata prego sì buongiorno buongiorno grazie per la telefonata prego prego il professor Morrone l'ascolta dunque io l'11 marzo la mia bimba la mia figlia ha fattorito la mia nipotina dall'11 marzo auguri e io dall'11 marzo praticamente non vedo né mia nipotina né mia figlia e e quindi questa cosa qua è abbastanza dura in più ho un compagno che non abitiamo insieme che è cardiopatico e quindi neanche con lui ci vediamo e quindi praticamente io vivo nella mia solitudine con con questa insomma questa problematica volevo chiedere se ci sarà un momento in cui riuscirò a vedere mia nipote prima che cammini e se per caso c'è un sistema per chi è cardiopatico per chi ha qualche avere qualche controllo non so se magari è autoimmunico è già stato contagiato si ha già avuto esatto si ha già avuto il codice senta le posso chiedere Laura come si chiama la sua nipotina prima di salutarla mia nipotina si chiama Adele no bene perché così almeno facciamo tutti noi gli auguri ad Adele adesso poi il professor Morrone ci dice se quando ovviamente la potrà rivedere cerchiamo di capire come Morrone se è una cosa che ragionevolmente può accadere presto devo dire che l'idea di arrivare al 3 maggio è perché poi si vuole comunque reaprire in maniera cauta queste opportunità per il compagno devo dire che quando c'è una cardiopatia ci deve essere una maggiore attenzione perché questo virus colpisce più facilmente le condizioni respiratorie ma anche le condizioni cardiocircolatorie attraverso questo consumo particolare dell'eparina da cui emergono poi queste situazioni di trombosi o di coaguli per cui una maggiore attenzione per il suo compagno ma sono certo che potrà rivedere la nipotina presto allora vedo collegati vedo collegate due persone che ci tengo molto a presentarvi perché noi tutti i giorni vi diciamo quanto i medici gli infermieri gli operatori sanitari sono lì che fanno un lavoro che poi consente a tutti noi di sentirci un pochino più tranquilli e quanto rischiano queste persone adesso ricordami i numeri dei medici degli infermieri che poi in realtà hanno perso la vita per darci una mano sono andato a trovare su internet questa pagina che è il portale della federazione dei medici e degli odontoiatri che fa il conto dei medici che hanno perso la vita sono 120 eccolo qui impressionante da scorrere l'elenco delle persone che sono morte per il covid e vi ricordiamo anche che il 10% del totale delle persone positive in Italia è un operatore della sanità e allora noi ci siamo detti questi numeri corrispondono a delle persone a delle storie a dei medici e chi erano questi medici come lavoravano come erano con i loro pazienti c'è una dottoressa la cui storia vogliamo raccontarvi lei si chiamava Samir Siniab era un medico di base aveva 62 anni lavorava come medico di famiglia a Mira in provincia di Venezia in questa foto che state vedendo la vedete con i suoi due figli mi commuove un po' vedere questa foto anche perché penso l'effetto che fa a Dania e a Rafi che sono qua con noi intanto grazie davvero per essere qui per aver accettato il nostro invito buon pomeriggio buon pomeriggio dunque vostra madre è morta il 9 aprile all'ospedale di Treviso 31 giorni di terapia intensiva era stata ricoverata il 7 marzo e fino all'ultimo però aveva lavorato e così Rafi dottor Rafi perché poi lui è medico legale Dania è pediatra è corretto? confermo allora dottor Rafi aveva lavorato fino all'ultimo? guardi in attesa del collegamento stavo sfogliando il telefonino di mia mamma degli ultimi massaggi che ha matato e lei la mattina mentre il 7 marzo la stavamo portando a fare l'attacco il coraggio e il terzo vedevo qui che stava consigliando a un paziente che era caduto di andare a farsi delle razze questa particolare caduta che aveva e lei non tanto si è recuperata prima in tecnologia e poi in terapia intensiva ha continuato a scrivere ai pazienti fino all'ultimo l'ultimo messaggio che ho trovato era che non solo consigli sull'assunzione della terapia dopo la prescrizione del farmaco per un paziente sua madre era convinta di riuscire a tornare dai suoi pazienti si 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 teneva tanto mi ricordo le ultime parole che proprio mi ha detto quando ha lasciato la sede l'accompagnata in conto soccorso e si è girata mi fa non dire niente ai miei pazienti non voglio che si preoccupino tornerò a andrò Dania voi siete medici lei non voleva che si preoccupassero i suoi pazienti probabilmente ha fatto la mamma fino all'ultimo e non voleva che vi preoccupaste neanche voi ma voi quanto eravate preoccupati? Noi eravamo molto preoccupati anche perché essendo entrambi medici eravamo e siamo consapevoli di tutto quanto nonostante questo però appunto nostra madre ci aveva raccomandato di portare avanti il suo lavoro e di non far preoccupare nessuno soprattutto i pazienti assolutamente era il suo unico e grande misterio e questo noi abbiamo fatto Quanti pazienti seguiva sua madre dottor Rafi? 1600 1600 1600 e aveva adeguati i dispositivi di sicurezza? Allora i dispositivi di sicurezza ovviamente usavamo le mascherine chirurgiche che ci erano state fornite però aveva scappato un sorriso alla parola dispositivi di sicurezza sia a lei che la sua sorella perché il tema è che quanti pazienti vedevano una giornata a vostra madre? Allora calcoli che prima del 24 febbraio dovrebbe essere questa la data che è scoppiata praticamente l'emergenza coronavirus si parla di 50 60 accessi ambulatoriali al giorno e lei aveva la mascherina chirurgica il che come forse ci può aiutare a spiegare il professor morrone poteva al limite servire ai suoi pazienti nel senso che si preoccupava di loro con quella mascherina proteggeva loro ma certo non era protetta lei e infatti si è ammalata è così che medico era vostra mamma non era solo un medico mia mamma mia mamma era il medico mia mamma era l'amica mia mamma era la psicologa i messaggi di pazienti che mi dicono ho perso una sorella ho perso una mamma i nostri i suoi pazienti stanno vivendo il lutto tanto quanto noi c'è un paese intero che sta piangendo perché non hanno perso solo la loro dottoressa hanno perso una parte della loro famiglia mia mamma viveva per i suoi pazienti dalla mattina alla sera non faceva soltanto i suoi orari di ambulatorio era sempre sempre disponibile sia in ambulatorio che telefonicamente da lunedì alla domenica dania era questo tipo di medico la sua mamma ma invece che tipo di mamma era lei quando ci ha parlato l'ultima volta mia madre era madre esemplare ci sono molte parole da quando abbiamo perso mio papà 13 anni fa anche lui infatto noi una mamma un papà è stato tutto è stato tutto quanto lei si è presa tutto sulle spalle Rafi so che lei vuole fare un appello c'è stato un momento in cui dania parlando dei pazienti di sua mamma ha detto i nostri pazienti il che mi dice molte cose perché evidentemente vostra mamma ha portato aveva insomma viveva il lavoro in un modo tale per cui voi stessi avete sentito quei pazienti come i vostri pazienti prego dottor Rafi allora calcoli che da quando io sono medico regale lavoravo nello stesso ambulatorio di mia mamma e mia mamma lavorava nello stesso ambulatorio di mio papà siamo sempre stati lì e quindi io ho sempre dato una mano a mia mamma nell'accurire i suoi pazienti e quando io facevo le mie vinite medico regali ero libero le davo una mano in ambulatorio quando poi ho scoppiato l'emergenza coronavirus se prima ero presente poi sono ancora più presente nel senso tentavo di tenerla quanto più distante da i pazienti soprattutto sintomatici per evitare che si ammalasse non è un appello che sto facendo io è un appello che stanno facendo i suoi pazienti perché io ho ricevuto più di 1400 1500 richieste a whatsapp che vuol dire e le chiedono di subentrare a sua mamma è questo no? sì cioè le dicono prenditi tu cura di noi perché ti conosciamo perché in qualche modo è come continuare ad essere seguiti da lei la qualcosa però ha un impedimento credo legata al fatto che per fare medico di famiglia bisogna fare un po' di cioè un percorso una premessa io non conosco solo l'anamnesi dei pazienti l'anamnesi la si può raccogliere dal computer dal diario io conosco la storia certo conosce i pazienti conosce le persone prima ancora che i pazienti io mi auguro che qualcuno raccolga e accolga questo appello Rafi vi abbraccio abbraccio sia lei sia Dania e vi ringrazio ancora per averci portato la vostra testimonianza davvero grazie grazie mille e Alessio che succede? mentre i due nostri ospiti stavano parlando è arrivata la notizia che è morto un altro medico sala 121 il bilancio un medico di Sassari e poi c'è un'altra notizia drammatica noi ce ne occuperemo nei prossimi giorni le residenze sanitarie per disabili sono il nuovo fronte dimenticato di diffusione del covid-19 lo ha denunciato a Lancia il presidente dell'Anfas Roberto Speziale in 17 di queste residenze che fanno capo all'Anfas ci sono importanti focolai con 57 soggetti disabili e 52 operatori contagiati e 5 decessi tra gli ospiti disabili i deboli che diventano più deboli questo anche ci ha insegnato il coronavirus e voglio dire vale per la mamma di Dania e di Rafi e vale per tutti i medici per tutti gli infermieri per tutti gli operatori sanitari è inaccettabile che ancora oggi noi sentiamo questi numeri e che ancora oggi noi dobbiamo parlare di medici infermieri operatori sanitari che non hanno le adeguate mascherine guanti ai quali non viene fatto per tempo il tampone è assurdo sinceramente inaccettabile che ci fa vergognare un po' sì fa vergognare il nostro paese andiamo in pubblicità ci troviamo tra pochissimo eccoci qua di nuovo in studio sono con noi il professor Morrone che risponde alle vostre domande e non solo anche alle nostre in verità c'è con noi Roberto Arditti mi chiede la linea di nuovo Elena Testi Elena che succede? ricordiamo che Elena ci ha raccontato di questo istituto che si chiama istituto Redaelli giusto Elena lì a Milano che è una casa di riposo raccontaci velocemente i numeri e la ragione per cui sei lì per chi non ci avesse seguito prima allora noi siamo qui perché questa è una dell'RSA che purtroppo è stata colpita dal coronavirus sono in tutto 137 i decessi per adesso chiaramente non sono stati tutti tamponati io questo ci tengo a precisarlo quindi non si può dire che sono tutti covid ma presumibilmente tali sono 400 le persone del personale sanitario gli OS i medici gli infermieri che attualmente si trovano in malattia in un totale di dipendenti che sfiora le mille unità si dice malattia perché chiaramente anche qui come vi spiegavo prima c'è carenza di tamponi e quindi non si può dire che siano 400 persone in quarantena con covid però molti hanno dei sintomi mi trovo di fronte a questa struttura e ve la faccio vedere perché questa è una delle RSA più grandi della Lombardia e questa è una delle serie perché i pazienti sono in tutto 1.400 vi dico che abbiamo parlato con numerosi dipendenti per capire quello che è successo e molti purtroppo sono intimoriti dalla situazione perché comunque è anche normale esserlo diciamo così però siamo riusciti a raccogliere una testimonianza una persona che si è prestata a volto coperto a raccontarci che cosa accadeva dentro l'RSA lei ha prestato servizio fino a pochi giorni fa poi purtroppo è risultata positiva al coronavirus e vi dico che in questa drammaticità non sapendolo nel periodo di incubazione ha purtroppo infettato il marito e il figlio però ci ha raccontato le misure di sicurezza che venivano prese dentro l'RSA le stesse misure su cui indaga la procura di Milano e sulla quale appunto Regione Lombardia e RSA dovranno dare delle risposte a questo punto e quindi abbiamo un contributo in cui possiamo sentire questa testimonianza abbiamo un contributo allora vediamolo vediamo esattamente esattamente lei dove lavora? io lavoro a Redelli sono host lavoro assisto all'anziane non isolavano i pazienti a Redelli? no no perché lasciavano i pazienti vicini a loro anche poverini mi dispiaceva vedere in un'estanza hanno due pazienti uno e l'altro che stavano bene ancora coprivano la faccia con l'enzola ma ve le facevano tenere le mascherine dentro i reparti? non c'era proprio quando è iniziato la pandemia non c'era proprio non trovavamo mascherina capo sale infermiere non ci arrivava non c'era dice che non c'era non c'era noi respiravamo virus dentro della stanza per forza dovevamo entrare cambiare pandolone cambiare dare da mangiare queste pazienti lei è risultata positiva al coronavirus? io sono contagiato in Redale Vandenere il coronavirus poi contagiato a mio marito a mio figlio anche loro sono risultati positivi siamo qua in isolamento quindi adesso grazie a Dios abbiamo passato febbre speriamo ancora combattere questi virus e speriamo di combattere questo virus Elena volevi aggiungere qualcosa? sinceramente a me questa intervista ha colpito perché chiaramente non è l'unica testimonianza nel senso che io ho sentito veramente tante 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 persone che ti dicono più o meno la stessa cosa sono tutte storie molto simili purtroppo sì esatto sono tutte storie molto simili che mi dicono la stessa cosa e che purtroppo hanno contagiato i parenti e questo è un problema e la cosa che più mi ha colpito se devo dire la verità è che non c'è stato un isolamento immediato e che persone venivano coperte con un tovagliolo perché c'era carenza di mascherine che poi alla fine è sempre stata ammessa questa carenza di mascherine l'abbiamo sempre detto quindi qui torniamo sempre ai dispositivi di sicurezza ed è un tema enorme perché io devo aiutare i degenti io devo aiutare i pazienti e alla fine diventa un veicolo di contagio cioè al di là diciamo dell'interesse del personale sanitario c'è anche il tema che il personale sanitario diventa veicolo di contagio perché sono importanti queste storie perché nel momento in cui e Arditti arrivo da lei nel momento in cui noi ci interroghiamo su come affrontare il domani dobbiamo capire ciò che è indispensabile necessario allora io un salto nel domani ve lo faccio fare perché vi porto a vedere com'è che si chiamano Alessio i test sierologici i test sierologici che sono una cosa diversa dai tamponi come ci ha spiegato più volte il professor Morrone e dove andiamo a vederli questi in particolare sappiamo che in tanti stanno lavorando per crearli andiamo in Puglia con Meritota andiamo in Puglia e arrivo da Arditti un po' di ansia quelli che vedete tutti in fila sono consiglieri comunali agenti di polizia municipale che il sindaco oggi sta sottoponendo ai test rapidi il primo è il comandante della polizia municipale uno dei più esposti al contatto con l'agente allora dottore ci spiega come funziona primo passaggio è quello di pungere con un apposito pungidito meglio il dito medio del soggetto da esaminare dopo aver deterso appunto la parte si fanno uscire poche gocce di sangue questo sangue viene aspirato all'interno di un'apposita pipetta poi il sangue viene collocato nel pozzetto del dispositivo che ci servirà per leggere appunto il risultato vengono aggiunte due gocce di reagente specifico si aspetta qualche minuto e si verifica il risultato negativo aveva timore beh un po' di ansia sì un po' ci esponiamo al rischio è inevitabile rifacciamo un attimo a Chirizzi per favore perché lo state rifacendo? questa strisciolina qui che vorrei in qualche modo riverificare quindi lo stiamo rifacendo nel dubbio lei immunologo tra i fondatori di un'associazione che regala anche grazie alla gara di solidarietà migliaia di test rapidi ai comuni che ve li stanno chiedendo questo non vuole per nessuna ragione creare una situazione di sostituzione o comunque di altra attività che si svolge rispetto a quanto realizzato egregiamente dalla task force pugliese uno studio dell'istituto oncologico di Bari che ha sostanzialmente sancito una perfetta sovrapponibilità tra i risultati del tampone e i risultati dei test rapidi almeno di alcuni test rapidi e quindi a fronte di questo voglio dire abbiamo ritenuto soltanto con spirito di servizio di mettere a disposizione una dotazione diagnostica i cittadini ci hanno chiesto in tanti la somministrazione di questo test sierologico rapido ma il comune lo fa attraverso i medici di base qualcuno già l'ha data la disponibilità altri invece stanno aspettando che arrivi qualche monito ulteriore dal ministero è arrivata qualche notizia dal ministero sì su questi test secondo quanto apprende l'ANSA il commissario Domenico Arcuri ha avuto ieri sera dal governo l'incarico di avviare le procedure di ricerca e acquisto dei test che dovranno rispondere a una serie di caratteristiche individuate dal ministero della salute un campione di cui a un tempo X di tempi non se ne parla hanno individuati i test giusti al momento no solamente 150.000 persone sarà la campionatura suddivise per profilo lavorativo genere e 6 fasce di età allora ricordiamo che questi test di cui stiamo parlando i test sierologici ci dicono se noi abbiamo o non abbiamo nel nostro sangue gli anticorpi poi ci sono quelli capillari e quelli venosi io mi sono fatto ormai una cultura però ci dicono se abbiamo gli anticorpi mentre se facciamo il tampone sappiamo se in quel momento siamo non siamo positivi giusto e abbiamo il virus chiedo a Darditti siccome la fase 2 ci dicono che sarà una fase in cui io già mi vedo cammineremo con le macchine spaziali cioè saremo dei giganti della tecnologia con le app che controlleranno tutto avremo i termo come si chiamano i termoscanner ovunque insomma sarà un mondo nuovo e diverso questo mondo nuovo e diverso deve fare i conti con il fatto che se non facciamo prima tutti i test cioè se non c'è una mappatura non ci può essere neanche l'app che poi ci segue e ci insegue io ho capito bene Arditti o lei ha capito una cosa diversa e le chiedo intanto queste benedette app chi le deve decidere le deve decidere ad esempio Colau di cui pure lei ha scritto o le deve decidere il ministero dell'innovazione per dire dunque io non so se conosco bene la lingua italiana però hai detto poco fa hai usato la parola prima è cioè tutta questa attività non può essere Alessio ha letto un lancio dell'ansa io sono felice di apprendere che si sta per ma siamo come un po' nella tradizione di tutta questa vicenda degli ultimi mesi mese e mezzo non parlo del lavoro dei medici e degli infermieri che è sul campo straordinario lasciamo parlo del resto siamo un po' agli annunci che è un po' la specialità tipica di tutta questa storia non esiste una fase 2 a mio modesto avviso in sicurezza senza avere prima realmente compreso la dimensione del fenomeno quindi la mappatura cioè i test e solo con una mappatura rigorosa che va probabilmente anche molto oltre un campione rappresentativo che ci serve solo per capire e non è un dato da poco quanto ampio è il fenomeno ma per riportare le persone ad esempio nei luoghi di lavoro occorre avere molto chiaro tra chi entra in quei luoghi di lavoro avere molto chiaro chi è in condizione di sicurezza per entrare e chi non lo è quindi questa attività è prerequisito essenziale per l'avvio della fase 2 non esiste un piano B rispetto a questo eh no io la penso come lei però ho come la sensazione che invece siccome appunto sento parlare di queste app di chi deve decidere e chi non deve decidere mi chiedo come ci avviamo anche perché qui sollevo un ulteriore dubbio mettiamo che noi ci organizziamo per fare tutti quanti questi benedetti esami sierologici il professor Morrone siccome noi siamo attenti studenti poi ci ricordiamo le cose a noi ha spiegato che al momento noi non sappiamo l'immunità se è per sempre se è per un periodo ridotto quanto dura quindi anche se fossimo tutti mappati non sapremmo per quanto tempo non siamo contagiosi o non siamo esposti al contagio due osservazioni una che più di una settimana fa il ministero ha emanato una circolare in cui però ha individuato tutti i laboratori nelle varie regioni italiane autorizzati a fare sia questi test sia i test da prelievo ematico quindi con un controllo quantitativo quello venoso degli anticorpi venoso sia i tamponi e poi ha individuato anche dieci tipi di test rapidi che secondo il ministero erano già individuati positivamente per l'acquisto di questi test quindi questo già è accaduto sette dieci giorni fa quando io parlavo della seconda fase che è necessario visto che non abbiamo un'immunità quella cosiddetta di greggi io la chiamo immunità di comunità che anche se volessimo aprire noi dovremmo fare questo test rapido a tutti ovviamente nei soggetti positivi all'anticor bisogna fare anche il tampone e a mio parere anche il prelievo e anche il prelievo venoso perché noi dobbiamo sapere quant'è la titolazione anticorpale cioè quanti anticorpi ci sono in circolo di questi soggetti perché tra l'altro questo diventa importante per quella terapia immunoterapia passiva di cui si è discusso qui che è importante quindi c'è anche un elemento terapeutico ma poi dobbiamo ripeterli ogni 15 giorni infatti il ministero stesso diceva che questo era positivo per le comunità dove vivono tante persone quindi carcere comunità religiose comunità di lavoro dove io per poter valutare come dire il follow up quindi l'andamento di questi soggetti io almeno ogni 15 giorni lo devo ripetere altrimenti quella negatività non mi garantisce che sia negativo dopo un mese perché io potrei avere comunque avuto cosa dice cosa dice Arditti e poi arrivo da Stefano che intanto vedo con attenzione il professor Morrone credo che abbia perfettamente ragione allora però professore chiariamoci su un punto la partenza reale della fase 2 non è solo legata ad avere diciamo così messo sotto controllo l'espansione del contagio e i suoi effetti drammatici calcolati con le perdita di vite umane e le persone in terapia intensiva ma la partenza concreta della fase 2 deve essere anche collegata al momento in cui saremo in grado di fare esattamente quello che lei ha appena raccontato perché altrimenti è come entrare in una stanza al buio quindi quando avremo la disponibilità di numero X tamponi numero X serie centinaia di migliaia kit di test sierologici centinaia di migliaia reagenti tutto quello che serve per fare questo tipo di mappatura laboratori assunzione di persone che significa anche denari non solo da mandare in corsia ma anche nei laboratori mi sta venendo mal di testa allora vedo collegato con noi Stefano Banfi perché abbiamo voluto che Stefano fosse con noi intanto ben trovato la vedo con dietro dei vini e questo ha un suo perché che non è soltanto che ci vuole far venire rabbia perché lei si può bere un buon bicchiere di vino e noi in questo momento no ma è perché in realtà Stefano è l'uomo dalla doppia vita Stefano ha una vita di prima che è la vita dell'infermiere e ha studiato per fare l'infermiere ha una vita di dopo che è la vita del viticultore e quindi produce vini che sono quelli immagino che vediamo alle sue spalle e ha una vita di adesso che tiene insieme le due vite perché lui ha deciso volontariamente di tornare a fare l'infermiere è corretto Stefano? ho saltato qualcosa c'è anche una terza quarta vita? no no non riesco non riesco per ora non riesco a farne un'altra ci stiamo dedicando a queste due è già un impegno è già un bel impegno senta mi racconta dove ha studiato lei per fare l'infermiere? certo ho studiato al sacco iniziato la mia beh prima ancora ho fatto il soccorritore sulle ambulanze poi ho iniziato diciamo gli studi da infermiere all'ospedale stacco famoso in questo periodo e beh punto di riferimento per le malattie infettive nel nord Italia quindi diciamo un posto abbastanza particolare Stefano però noi siamo collegati da dove precisamente? esattamente da Mondondone che è questa frazione del comune di Codevilla in provincia di Pavia un bellissimo posto con pochissimi abitanti sulle colline dell'Otrepol e lei dopo aver fatto credo per 7-8 anni forse di più 12 anni quanto tempo ha fatto l'infermiere? prevalentemente in terapia intensiva quindi ha lasciato la divisa da infermiere ha deciso di ritirarsi in Campania stiamo vedendo nel frattempo il luogo nel quale lei ha deciso di andare a stare il lavoro che ha deciso di fare al posto del lavoro dell'infermiere e cioè ha messo su il suo vitigno e fa il suo vino è corretto? esattamente ho diciamo recuperato una vecchia azienda con dei vigneti e da quelli ho iniziato a lavorare per produrre il vino ultimo giorno da infermiere Stefano? quando è stato? il primo il primo giorno in cui sono rientrato beh sicuramente è stato all'inizio più che altro la sera prima di rientrare è stata un po' così mi facevo alcune domande poi in realtà appena avarcata la soglia del reparto vestito in realtà le chiedevo questo Stefano lei ha lasciato il lavoro da infermiere esattamente quando? se lo ricorda quale è stato l'ultimo giorno? ho lasciato il lavoro da infermiere nel 2012 nel 2012 e poi invece è tornato a fare l'infermiere per dare una mano quando? un mesetto fa circa un mesetto fa lei diceva la sera prima insomma aveva i suoi dubbi le sue preoccupazioni dopodiché com'è questo covid? come ha trasformato l'ospedale? l'ha trasformato sia fisicamente che nel in tutte le sue sistema operativo ecco nella sua modalità e ha anche trasformato la vita dei medici degli infermieri del personale che ci lavora lei sta lavorando in un ospedale nel reparto covid dell'ospedale di Voghera giusto? esattamente attualmente nella rianimazione dell'ospedale di Voghera mi dice mi dice che tipo di rapporto è possibile tra infermieri tra i medici e gli infermieri tra il personale sanitario e i pazienti me lo dia in una fotografia mi dica che cosa è arrivato a lei sì i rapporti sono complicati perché appunto diciamo gli operatori sanitari sono tutti vestiti come avete visto nelle immagini e quindi sia i rapporti tra di noi che con i pazienti sono difficili però ci sono poche parole pochi gesti sono sufficienti insomma per comunicare anche la nostra vicinanza ai pazienti senta ci ha pensato ma chi me l'ha fatto fare me ne restavo in campagna? Beh in realtà sono contento sono contento di aver fatto entrambe le cose mi danno soddisfazione quando finisce tutta questa faccenda lo facciamo un brindisi insieme con il suo vino? quando finisce quando finisce tutta questa vicenda del covid lo facciamo un brindisi insieme col suo vino? certamente molto volentieri questo significa il vino lo porta lei però eh certo certo va bene va bene grazie Stefano e grazie soprattutto per quello che sta facendo per la sua generosità andiamo in pubblicità devo salutare Roberto Arditti che non ritroviamo dopo la pubblicità ci vediamo tra pochissimo grazie Arditti buona giornata eccoci qua di nuovo in studio è con noi il professor Aldo Morrone che risponde alle vostre telefonate dovrebbe essere collegato con noi Gianni Trovati del Sole 24 Ore fatemi vedere se è vero eccolo ben trovato è un po' di tempo sono contenta di trovare trovati che sembra buongiorno a tutti saluto il nostro fiscalista Gianluca Timpone bentornato buongiorno buon pomeriggio allora gli ospiti in qualche modo vi fanno già capire di che vogliamo parlare vogliamo parlare anche di tasse di ripartenza i numeri che ci hanno dato stamattina Banca Italia ieri il Fondo Monetario Internazionale non ci mettono allegria direi che decisamente ci mettono di cattivo umore però la domanda noi abbiamo detto parliamo dell'estate almeno ci viene il buon umore così così perché insomma che estate sarà allora la prima domanda è per il professor Morrone lei non risponda come rispondono all'appuntamento delle sei mi risponda da professor Morrone a luglio e ad agosto noi andremo al mare con le stesse caratteristiche con cui oggi abbiamo il distanziamento sociale io non ho capito mascherine in spiaggia con le mascherine i guanti a distanza a distanza qui la risposta è no mi sembra di poter dire vabbè allora facciamo così Alessio intanto in attesa di capire cosa deciderà il governo interno ripassiamo un po' qualche dato relativo al turismo che estate sarà per gli albergatori per tutti gli operatori del turismo noi abbiamo preso i dati di CNA quanto vale intanto il turismo esatto 2019 57 miliardi era il giro d'affari generato dal turismo è stato la previsione per il 2020 ci racconta di un magro bottino da 16 miliardi quindi mancherebbero 41 miliardi all'appello soltanto nel primo trimestre dell'anno sono andati in fumo quasi 16 miliardi mentre per il secondo si stima una contrazione di 25 miliardi molto bene questo ci dà un po' l'idea molto bene in realtà molto male a pagare un prezzo salatissimo sono soprattutto gli albergatori che appunto stanno assistendo ad un crollo degli affari dovremmo avere in collegamento proprio un albergatore vediamo se riusciamo ad aprire il collegamento con Gabriele Merico o Merico ben trovato Gabriele mi aiuti con il suo cognome Merico buonasera ben arrivato lei è titolare di un hotel 4 stelle 28 stanze di fronte a San Pietro dirò pure il nome dell'hotel Orange magari le faccio un po' di pubblicità e magari serve quando riepriamo lei lavora soprattutto con i pellegrini e con i turisti qual è la situazione in questo momento? la situazione è un disastro mamma mia perché innanzitutto io non sono non sono figlio d'arte nel senso che ho aperto quest'albergo nel 2006 con comunque e poi arriva dalla crisi del 2009 quindi già in quella fase deve essere stato complicato esattamente però siamo riusciti a sorpassarlo e ad oggi la situazione è che io ho zero camere da marzo non pago più non pago più l'affitto dal periodo di marzo e aprile e la verità è che noi alberghi siamo andati in abbiamo cominciato a sentire la crisi prima di tutti gli altri praticamente da quando sono stati chiudi i voli per la Cina e ad oggi la situazione è che non non c'è cioè lei non ha nessun tipo di entrate non ha entrate ormai già da un po' di tempo praticamente non ho entrate da febbraio da dopo metà febbraio da dopo San Valentino diciamo intorno al 20 di febbraio mi dica una cosa io immagino che lei avrà studiato con attenzione i decreti del governo per capire se c'era qualcosa ha trovato qualcosa che risolve almeno in parte i suoi problemi c'è qualcosa per lei nei decreti ma guardi la situazione è questa io ovviamente sia da cittadino che da imprenditore so che non ci sono molti denari questa è la verità ma noi alberghi siamo i primi ad essere entrati in crisi e probabilmente gli ultimi ad uscire guardando i decreti del governo c'è un problema sostanziale che diciamo c'è una situazione di come dire di blocchi a livello di come dire bancario perché il governo rilascia una come dire la in base al merito del credito riesce appunto a prestarti dei riuscirà probabilmente perché questa è la situazione a prestare dei soldi a dare dei soldi esattamente a come dire ad andare a contenere delle perdite della crisi di liquidità perché io non so nemmeno come pagare le bollette le semplici utenze non abbiamo non abbiamo alcun tipo di incasso al principio dell'alta stagione quindi lei dice mi perdoni se la interrompo però è per capire lei ha detto io non pago l'affitto da ormai da un mese due mesi in realtà il governo dice che voi l'affitto lo dovete pagare e poi eventualmente vi sarà tolto dalle tasse in futuro c'è questo credito d'imposta però lei dice se io non incasso come faccio a pagare l'affitto che immagino non sia esattamente un affitto da poco quello che uno si aspetterete è che io sono come il 50% degli alberghi più o meno in Italia sono in locazione il credito d'imposta probabilmente sarebbe più opportuno darlo alla proprietà cioè quello che non riesce ad incazzare si poiché non incassi l'affitto ti scarico dalle tasse l'affitto non incassato mi è chiaro però le chiedo questo lei ha detto io non ho una tradizione familiare io mi sono inventato in realtà questo mestiere ci ho provato quindi immagino che abbia messo dentro questa attività anche diciamo non soltanto le energie economiche ma anche quelle psicologiche di sogno di desiderio di crescita tutto e per lei sapere che le stanze sono chiuse che cosa significa non ho capito mi scusi quindi per lei che cosa significa sapere che l'albergo è chiuso che le stanze sono tutte guardi le dico le dico una cosa in questi anni anche nei momenti di bassissima stagione o di maggiori crisi anche per il turismo mi viene in mente la nuvola del vulcano in nord Europa l'albergo non ha mai avuto diciamo non sono mai sceso sotto le due tre camere e quando ho pensato di fare quest'albergo ovviamente essendo un albergo di città nel pieno centro di Roma non ho mai pensato di chiuderlo ma un albergo sempre aperto il giorno in cui l'ho chiuso che è stato diciamo gli inizi di marzo perché comunque non abbiamo avuto un obbligo di chiusura ma ovviamente non avevo certo però se non c'è nessuno e alla fine non c'è nessuno guardi la foto più indicativa gira adesso le foto diciamo le immagini più indicative per far capire cos'è il turismo e quando ne usciremo sono le immagini degli aerei parcheggiati sopra le piste sì sì tra l'altro incantati no quello ti dà la misura di che cosa significa la ripartenza del turismo quanto sarà difficile trovati le chiedo aiuto intanto colpisce io lo ripeto tutti i giorni perché secondo me sarà un tema rispetto al quale dovremmo poi trovare delle soluzioni e sul quale ci dovremo interrogare perché guardate che ci saranno le macerie economiche ci saranno gli interventi da fare ma ci saranno delle macerie emotive che secondo me non saranno niente affatto trascurabili perché poi in ciascuna di queste attività c'è la vita delle persone cioè non c'è solo l'attività che non c'è più ci sono i sogni i desideri i sacrifici fatti e queste persone in questo momento sono sole trovati sì e c'è anche da aggiungere che mentre si sta parlando molto di fase 2 tra virgolette noi non abbiamo la minima idea di quelli che saranno i nostri comportamenti sociali una volta diciamo chiusa la fase critica dell'emergenza perché questa emergenza è destinata a cambiare per un certo numero di speriamo mesi ma forse di più le nostre abitudini semplicemente perché in particolar modo nel settore del turismo per andare in un albergo per andare in un ristorante fuori a cena per andare in un locale a prendere un aperitivo bisogna anche avere voglia e avere voglia di affrontare diciamo così questa esperienza con modalità nuove allora se tu devi tenere come dovrai tenere per un po' di mesi il distanziamento sociale le mascherine i guanti eccetera io me ne immagino tutti in spiaggia o a cena o a pranzo in spiaggia con le mascherine i guanti a distanza di un metro e col plexicas poi ci arriviamo però appunto cioè uno se poi si figura queste situazioni come dice trovati ti passa la voglia e forse non ci vai no? e questo qui è un tema fondamentale anche al di là come dire del dibattito fra di noi è un tema fondamentale per provare a disegnare le misure di politica economica per la ripartenza ed è però purtroppo par di capire un livello di analisi che per il momento è completamente assente dall'orizzonte dei decisori però la fermo un attimo ho trovato perché voglio chiedere a timpone se riusciamo a dare qualche consiglio mirato al nostro Gabriele nel senso che quello che ho capito io di Gabriele è che lui è un imprenditore che in questo momento avrebbe bisogno di una cosa banalmente di liquidità perché se lui non sa come fare a pagare le bollette cioè poi uno basta un po' di senso pratico e capisci che lui ha bisogno di liquidità quali sono gli strumenti che hai in questo momento a disposizione ti impone? allora chiariamo subito che addirittura neanche il credo di imposta può beneficiare per quanto riguarda il pagamento dell'affitto perché attualmente le strutture alberghiere non beneficiano solo i negozi sono esatto solo i negozi quindi manco quello esatto invece per quanto riguarda le misure che possono essere favorevoli a chi svolge un'attività alberghiera sono in primis chiaramente la moratoria ossia lo stop di tutti quelli che sono i prestiti i finanziamenti da qui al 30 di settembre ma qui aspetti ti impone che qua io ho una serie di dubbi la banca lo deve fare o ha discrezionalità? no la banca lo deve fare però nella misura in cui tu mi devi dare che ne so garanzie attenzione per quanto riguarda la sospensione fino al 30 settembre è un obbligo nel senso la banca lo deve fare punto e basta non può esimersi inoltre se ci sono delle linee di credito in scadenza da qui al 30 settembre devono essere prorogate automaticamente discorso diverso invece questo è molto importante per quanto riguarda la concessione di nuovi prestiti fermo restando che per quanto riguarda la liquidità parliamo dei cosiddetti 25 mila euro però i 25 mila euro e questo è importante ribadirlo rappresentano il 25% dei ricavi del 2019 nel caso di specie penso non ci siano problemi in questo caso la domanda va inoltrata direttamente alla banca e poiché vi è la garanzia del 100% da parte dello Stato in teoria anche in questo caso la banca dovrebbe concedere senza difficoltà il prestito e in che tempi tutto questo si può realizzare ti impone mettiamo che Gabriele non l'abbia ancora fatto e poi arrivo da Gabriele voglio fare domanda e lo diciamo anche ai vari altri alle persone che ci stanno seguendo voi volete fare domanda per questi 25 mila euro posso che devono essere quanto ha detto che devono essere in percentuale dei ricavi dichiarati nel 2019 cioè nel 2019 dovete aver guadagnato 100 mila euro almeno 100 mila euro esatto se non guadagnati 50 mila vi danno massimo 12 mila e 500 euro questo per quanto riguarda la liquidità garantita al 100% il modulo già è disponibile garantita al 100% significa che è garantita dallo Stato cioè da tutti noi e cioè dalle nostre tasse ma va benissimo se serve ad un'impresa a rimanere in piedi però la banca teoricamente non ci può dire di no non dovrebbe dirci di no usiamo il condizionale e lo dovrebbe fare in che tempi? in tempi si parla di due settimane si parla di due settimane nel senso che una volta inoltrata la domanda la banca entro due settimane dovrebbe dare una risposta che si spera sia positiva perché? perché se la persona non restituisce quei soldi ci pensa lo Stato ci pensiamo noi esatto Gabriele lei ha fatto qualcuna di queste mosse? no io guardi io nella realtà la 25 la richiesta entro i 25 mila euro con il 100% di garanzie dello Stato e quindi non essendoci la discrezionalità bancaria in realtà mi servono un pochino a poco perché lei immagini che pago quasi 28 mila euro al mese di locazione mamma mia ecco quindi diciamo sono un albergo di 30 camere con un ristorante sopra l'albergo con un roof garden sopra l'albergo mi sembra un po' difficile che con 25 mila euro prestati fra l'altro possa andare da qualche parte cioè lei dice io faccio solo un debito in più ma in realtà non mi risolve la vita mi risolve nulla no ma il problema è che la prima cosa potrebbe risolvermi la vita nell'immediato diciamo per pagarmi delle cose come delle utenze eccetera eccetera degli impegni che uno comunque aveva preso prima dell'emergenza chiamiamola così del lockdown il problema è che prima cosa non si capisce se la richiesta di questi 25 mila euro escludano poi la richiesta che sarebbe più dedicata diciamo al comparto del turismo delle piccole e medie imprese degli alberghi medio piccoli come il mio che sarebbe la richiesta del 25% sul fatturato del 2019 o o il doppio delle utenze allora se ho capito la domanda e la giro a timpone vediamo se abbiamo notizie se io accedo a questi 25 mila euro a questo prestito poi questo inficia la possibilità che io possa accedere ad altre forme di sussidio dello Stato sostentamento sostegno chiamiamolo come vi pare allora al momento non vi è un'incompatibilità per cui io potrei accedere ai 25 mila euro all'una e all'altra cosa esatto poi tra l'altro però c'è da dire questo che se ho beneficio anche faccio anche la richiesta per avere fino a 800 mila euro perché 800 mila euro perché per imprese sotto ai 500 dipendenti io posso avere il 25% del fatturato con un massimo di 800 mila euro quindi se il mio fatturato arriva a 3 milioni e 2 io posso arrivare massimo a 800 mila euro però in questo caso i tempi sono molto più lunghi perché la banca deve fare un'autovalutazione e la garanzia non è del 100% ma è del 90% e dunque la banca dice la sua perché deve valutare se poi rientrerà mai oppure no di quei soldi allora un attimo solo Gabriele un attimo solo perché voglio fare ancora un passo avanti ricordando intanto quando parliamo di Gabriele stiamo parlando di un settore che fattura quanto Alessio ricordamelo per favore 7 miliardi era il dato del giro d'affari del 2019 e invece per il futuro quanto perderebbe 16 miliardi perderebbe circa 40 miliardi si parla di una perdita del 73% del fatturato è corretto? è corretto e forse di più ci dice Gabriele plausibilmente qualcuno perde il 100% sono stime perché se chiudi diciamo hai perso il 100% ma allora la domanda è quando è che ricomincia a lavorare Gabriele si torna o non si torna alla vita normale per quest'estate cosa ci ha detto Alessio perché anche su questo abbiamo le idee poche ma confuse esatto la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha detto aspettate a prenotare le vacanze estive per luglio e agosto aggiungendo anche che le persone sopra i 60-65 anni farebbero bene a stare in casa fino alla fine del mondo verrebbe da dire buono però diciamo nel frattempo è arrivata un'altra dichiarazione Alessio della sottosegretaria Lorenza Bonaccorsi che proprio ieri ne abbiamo dato notizia ha detto faremo di tutto per poter farvi per potervi far andare al mare quest'estate in sicurezza e con delle migliorie che saranno studiate per garantire la sicurezza sanitaria allora trovati il titolo è comunicazione chiara e univoca andiamo tutti dalla stessa parte si partiamo dal dato che la von der Leyen forse in questa fase ha delle cose più importanti e intelligenti da fare rispetto a dichiarare alla gente se andiamo non andiamo al mare ma questo come dire lo mettiamo come nota margine il tema emerso chiaramente diciamo così dalla storia dell'albergatore che abbiamo sentito è che le misure fin qui messe in campo non sono neanche lontanamente sufficienti ad affrontare il problema ma va detto che era noto nel senso che purtroppo noi abbiamo due ordini di problemi il primo è che arriviamo all'appuntamento purtroppo con questa crisi sanitaria ed economica già con i conti scassati prima e di conseguenza non abbiamo potuto effettuare gli interventi con la mole e con la rapidità che invece altri paesi hanno potuto fare perché quando noi anche nella tua trasmissione tante volte in tempi diciamo più tranquilli di questi abbiamo rotto le scatole alle persone sottolineando che il nostro debito pubblico era il 135% del PIL che il deficit era il 2,2 andava abbassato eccetera eccetera intendevamo proprio dire che quando succede uno shock economico se tu arrivi in quelle condizioni difficilmente hai la possibilità di dare una risposta pratica purtroppo se i tuoi fondamentali sono pessimi ovvio che fai più fatica dimostrano che quegli ragionamenti non erano proprio teorici non erano ubie da contabili e da ragionieri va detto anche che il governo ha intenzione entro il mese di aprile di approvare un nuovo provvedimento che dovrebbe essere più sostanzioso e dovrebbe cercare di guardare un filmino più avanti perché finora noi abbiamo sospeso tasse abbiamo messo pezze abbiamo ipotizzato i 25.000 gli 800.000 eccetera che si diceva prima sono prestiti non sono soldi che ti vengono dati no è un debito ulteriore che io non so mai se sarò in grado di restituire questo è il tema e appunto appunto come tutti i prestiti hanno un obbligo di restituzione peraltro in 6 anni non in 10 20 30 che sarebbe un orizzonte diciamo più gestibile e hanno un tasso di interesse che sarà basso per carità diciamo che ogni imprenditore che noi sentiamo ci ribadisce noi abbiamo bisogno di liquidità abbiamo bisogno di liquidità adesso non abbiamo bisogno di fare altri debiti nel frattempo però restando alla questione vacanze o non vacanze Alessio mi fai capire perché poi nei dettagli si vedono le cose allora fatemi capire come potremmo andare in vacanza qualcuno si è lanciato in simulazioni abbiamo letto sui giornali queste simulazioni 14-16 metri per ogni ombrellone potranno esserci 3-4 persone e se ti allontani dall'ombrellone dovrai indossare la mascherina 14-16 metri ovviamente la distanza tra un ombrellone e l'altro ma per essere proprio protetti come si deve sono comparse anche le fotografie di alcune ipotesi fantasiose che per me che sono cresciuto sul mare insomma non ti sembra la dimensione più magica che tu possa sperimentare diciamo con queste strutture in plexigas allora io chiedo al professor Morrone il plexiglas come lo vede lei devo dire che è una follia ma io me lo chiedo anche dal punto di vista medico sanitario cioè io mi chiudo dentro una struttura di plastica 40 gradi io e la mia famigliola mi dispiace devo dire una follia una follia devo dire che a tutti i soldi che occorrono per rilanciare l'economia saranno necessari ulteriori fondi per la sanità perché tutto lo dicevamo prima del test sierologici dei tamponi ah certo tutto quello costa dei nuovi assunti dei laboratori e ha un costo ben preciso quindi voglio dire c'è necessità di un investimento c'è necessità di una visione in cui per carità programmare va benissimo in cui però come diceva prima il giornalista dobbiamo vedere tutti insieme altrimenti voglio dire si può incoraggiare il nostro albergatore come è successo in Toscana che gli alberghi vengono trasformati nelle case per i soggetti positivi asintomatici per evitare che finiscano ovviamente per evitare che chiudano perché in quel modo almeno l'albergo rimane indietro le chiedo una cosa però che ci hanno chiesto in tanti e poi prendiamo una telefonata perché so che ce n'è una in attesa da un po' di tempo il mare può essere veicolo di contagio visto che stiamo parlando di vacanze non abbiamo nessuna evidenza scientifica su questo quindi la risposta ve la traduco io non lo sappiamo però fino adesso non c'è stato nessun caso di chi è andato al mare piuttosto di chi è andato in alta montagna purtroppo devo dire che in questo caso il virus ha colpito tutti che sarebbe interessante riuscire a capire siccome ancora non è arrivata l'estate e tutto ciò che noi sappiamo lo sappiamo dalla Cina ma è partito a dicembre quindi adesso poi però c'è gente che vive al mare però non è che fai il bagno adesso però non è la stagione calda noi speriamo molto in questa stagione calda noi speriamo molto in questa stagione calda che riduca ovviamente da una parte la sensibilità alle malattie che però diciamo nell'acqua il virus dovrebbe essere no non c'è nessun problema vive non vive entriamo in acqua che il contagio è solo interumano interumano tutto il resto ce lo possiamo completamente scordare quindi se vi volete fare il bagno a male fate però ma da soli questo rimane il tempo a certa distanza ad una certa distanza e chi c'è al telefono dovrebbe esserci Marco? sì buon pomeriggio Tiziana ben trovato Marco chiama da Pescara? sì grazie anche al professor Morrone un saluto ad Alezio allora sono un po' emozionato perché diciamo sono stato colpito da questo virus ed è circa diciamo un mese che ho avuto i primi sintomi ora ho fatto il tampone sono ancora positivo quindi questo cosa significa questo potevo chiedere e se mi devo preoccupare se c'è qualcosa che non va? grazie Marco intanto buona vita in bocca al lupo buona guarigione non credo ci siano cose che non vanno però prego se era in isolamento domiciliare lei è in isolamento domiciliare Marco? aiuto lo abbiamo perso allora quello che ho capito io è che lui è stato ricoverato e io io penso che sia ancora ricoverato però adesso vediamo se riusciamo a risentirlo al telefono però dice è passato un mese dai primi sintomi io sono ancora positivo come possiamo tranquillizzare Marco? possiamo tranquillizzare perché questa è una situazione molto frequente non è detto che le persone come dire diventino negativi a distanza di è a casa il rispettatore è a casa non è che diventino negativi a distanza di 4 settimane per forza alcune ci mettono addirittura 8 settimane perché c'è una differenza nell'evoluzione della malattia nei vari soggetti la cosa importante è che se sta a casa vuol dire che sta clinicamente meglio quando si sta clinicamente meglio c'è anche una guarigione clinica non possiamo dire che è guarito completamente perché il tampone è ancora positivo noi abbiamo bisogno di due tamponi a distanza di 24 ore che siano entrambi negativi allora vuol dire che non solo è clinicamente guarito come probabilmente già lo è ma è anche microbiologicamente guarito cioè non è più contagioso è completamente guarito dopo il secondo tampone allora io spero che Marco stesse lì ad ascoltarci e spero che si senta rassicurato da questo perché capisco che dopo magari 4-5 settimane perché abbiamo insistito molto sulle 4 settimane alcuni soggetti ci impiegano più tempo e allora magari ho una problematica in più non è così è abbastanza frequente che vada in questo modo dicevamo dello stare in riva al mare di farsi il bagno il professor Borrone ha detto che ciò possiamo fare che l'acqua non peggiorirà la nostra situazione ma proprio per capire come il mondo dei balneari si sta organizzando rispetto alle vacanze che arriveranno forse sì forse no dove siamo andati Alessio? siamo andati in Liguria con Pietro Barabino a fare un giro tra i balneari e tra l'altro il governatore Toti sta spingendo una delle regioni stanno spingendo di più per la riapertura di ristoranti di locali eccetera vediamo molta gente ci chiede quando aprite quando aprite e la nostra risposta naturalmente non lo sappiamo ci stiamo preparando perché ci è stato autorizzato prepararci e speriamo che poi ci autorizzino ad aprire prime giornate di sole e spiagge Liguri deserte così temono i gestori degli stabilimenti balneari rischiano di restare ancora per molto qui saremo a pulire a mettere in ordine tutte le gabine a mettere a posto una piscina sperando nel tempo sperando nella gente sperando di stare tutti bene abbiamo avuto l'autorizzazione dalla regione per cominciare a fare qualche lavoro di manutenzione non sappiamo neanche se saranno lavori utili in quanto non abbiamo ancora nessuna certezza di aprire come quando e perché se si potrà dovremo sicuramente aprire con delle regole su quello ne siamo già pienamente consci il problema è di poter aprire poter dare un servizio idoneo all'esigenza che ci saranno e che ci verranno richieste qua d'estate abbiamo un'ottantina di posti abbiamo considerato adesso facendo più o meno che ce ne saranno 30 si riesce a mantenere un bilancio attivo utilizzando o diciamo vendendo soltanto il 50% con dipendenti decine di dipendenti bagnini probabilmente no quindi quello che chiediamo è di avere le regole di come dovremo comportarci con lo stabilimento aperto intanto sul web iniziano a girare originali quanto improbabili soluzioni che garantirebbero il distanziamento sulla spiaggia si l'ho vista va bene ma è come mettere uno nel forno a microonde allora sono tutti lì che non sanno cosa fare e fanno i disegnini credo che sia una cosa impossibile non andrei mai al mare io con le barriere di plexiglass un caldo terribile un costo incredibile per il per lo stabilimento che probabilmente non avrebbe gente uno va alla spiaggia perché si rilassa si diverte fa giocare i bambini si comunica si sta insieme è la socializzazione del turismo figuriamoci con questo tipo di regole sarebbe ripeto non sarebbe neanche il caso di aprire e allora trovati siamo nel regno ovviamente del caos puro perché poi queste persone non sanno se aprono se arriveranno i turisti e questo è un primo elemento che non è inessenziale non sanno con quali regole non sanno con quali sistemi non sanno se vale la pena aprire perché poi se devi ridurre il numero degli ombrelloni ridurre il numero dei posti a tavola eccetera è chiaro che forse non ti conviene più no ma infatti una riconversione una modifica proprio della struttura economica del turismo sarà inevitabile naturalmente queste parole dette come dire sedute ragionando hanno un peso specifico relativo poi vissute sul campo invece significa che ci sono delle attività economiche che non potranno ripartire e di fronte alla profondità di una modifica di questo tipo non c'è intervento del governo di qualsiasi governo sull'orbe terraqueo che possa come dire risolvere il problema ci sono però misure che possono quantomeno alleggerirlo e sono come dire una emissione di liquidità molto più importante di quella che fin qui è stata fatta e soprattutto misure di indennizzo dei settori più colpiti almeno parzialmente perché per esempio sulle tasse fin qui si sono sospesi degli obblighi fiscali dicendo paghi dopo ma in quel dopo si rischia di arrivare senza soldi questa è come la storia dell'IVA non la paghi subito la paghi a maggio ma se io per tre mesi non ho lavorato non si capisce bene come faccio a pagarla poi maggio appunto arriva il passaggio successivo è un indennizzo almeno parziale che sia parametrato alla tua perdita di fatturato il governo ha detto di volerlo fare serve una barcata di soldi serve quindi un aumento del deficit e verosimilmente settimana prossima si attiverà la macchina ma non non illudiamoci sulla possibilità che la soluzione possa essere totale ma dal totale al nulla ci sono svariate varie sfumature che vanno per corse e poi soprattutto dal nulla al tanto tantissimo a quello che sarebbe necessario non solo ci sono le sfumature ma ci sono anche le sfumature legate ai tempi perché io credo che uno dei punti sia la velocità ti impone per esempio ho sentito parlare di bonus vacanze che potrebbe vacanze per le famiglie italiane che vanno in vacanze in Italia cioè bonus per le famiglie italiane che scelgono l'Italia ho capito bene prima come fai a scegliere un altro luogo che non ci puoi andare diciamo sono chiusi i voli però diciamo ti arriva questo bonus giusto ho capito bene sì in pratica se io spendo per la mia vacanza 3.000 euro un 20-30% di quello che speso io lo potrei utilizzare in futuro per pagare e ridurre quelle che sono le mie imposte poi ricollegandomi ah sempre come cosa che poi non pago le tasse assolutamente non parliamo di contributo come potrebbe accadere ad esempio con i buoni affitto che tra l'altro sono stati introdotti già nella regione Lazio però per le persone fisiche e non per gli albergatori cioè nella regione Lazio esiste un buono affitto per dare una mano per tre mesi a chi non riesce a pagare l'affitto però riguarda solo le persone fisiche non gli albergatori che però a me vale sacrosanto francamente quindi bene con un reddito non superiore a 28.000 euro quindi questa è un'indicazione già è un dato di fatto quelli che sono più in difficoltà evidentemente è un dato di fatto volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda il settore balneare loro poiché è un'attività stagionale loro già partono con un handicap nel senso che loro pagano per tutto l'anno l'affitto per le cosiddette concessioni a secondo della metratura possono pagare anche 5, 6, 7.000 euro all'anno a prescindere da quello che poi andranno a guadagnare solo che prima magari sapevano di poter contare sul numero X di ombrelloni se oggi gli diciamo che riaprono ma con meno ombrelloni magari ci alzeranno il prezzo dell'ombrellone ammesso che la famiglia riesca ad andare lì ad andare in vacanza poi siccome il personale dipendente lo dovranno assumere gioco forza non possono beneficiare di nessun ammortizzatore perché è un personale che dovranno assumere quindi per queste persone che dovranno assumere è presumibile che i contributi vengano totalmente azzerati anche perché altrimenti non avrebbero la forza per poter pagare contributi e stipendi per aprire quest'estate io voglio salutare a questo punto Gabriele che era rimasto con noi che succede Alessio arrivo Gabriele sì una notizia poi dopo Elena ci darà i dettagli intanto è stata battuta dall'agenziera Lombardia anche a vedere con Milano Lombardia Lombardia chiede riprese attività produttive dal 4 maggio con delle cautele adesso ovviamente questa è una domanda che merita un approfondimento ci arriviamo voglio salutare Gabriele ho un tassativo quindi devo salutarlo velocemente Gabriele mi guardi ho le dita incrociate per lei e per tutti quelli che come lei guardi le posso dire l'unica cosa positiva in questa situazione qua è la solidarietà con i miei colleghi perché veramente con Federalberghi Federalberghi Roma stiamo facendo quadra per capirci anche qualcosa di questa confusione capisco Gabriele in bocca al lupo sono rimasta con le dita incrociate in bosca al lupo davvero poi noi che viviamo qui a Roma quando sarà possibile veniamo a vedere di cosa stiamo parlando pubblicità assolutamente grazie arrivederci Grazie 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 Grazie